Ora, Stefano Campanella, direttore di Teleradio Padre Pio e di Padre Pio TV, a nome delle tre realtà che animano il rosario che stiamo vivendo, eleverà la preghiera comune alla madre di Dio, mentre Pia Pennelli, figlia del compianto Alfonso, pronipote del fratello di Padre Pio Michele Forgione, le offrirà un omaggio floreale. Caro Fran Nicola, è un onore per me prestare la voce alle tre realtà che questa sera sono state chiamate ad animare il santo rosario del mese mariano. Certamente altri più di me meritavano questo privilegio, che ho accettato con spirito di servizio verso i frati e verso ciascuno di voi. Esprimo dunque la riconoscenza di tutti e di ognuno a te e all'intera echipa di Pastorale Giovanile del Santuario, anzitutto per l'ideazione e la continuità che avete dato alla lodevole in iniziativa di coinvolgere i giovani, almeno nel mese di maggio, nella recita della preghiera mariana preferita da Padre Pio, che raccomandava a tutti i suoi figli spirituali. Sentendoci dunque vincolati dalla comune missione di custodire e di porgere all'umanità di oggi la figura e la spiritualità di questo grande testimone della fede di questo nostro tempo, vogliamo seguirne l'esempio ed elevare insieme un'accorata supplica alla Beata Vergine delle Grazie da secoli venerata in questo santo luogo. Gioisci piena di grazia, il Signore è con te, tu che per l'annuncio dell'Angelo hai generato il tuo Creatore e Signore, sei divenuta sentiero umile e prezioso che conduce al tuo Figlio Gesù. In te tutte le generazioni si diranno felici perché hanno visto la via che conduce alla vera gioia. Indicaci la via, Maria, cammina accanto ai nostri giovani perché riscoprano in Gesù la strada della vera pienezza. alzati piena di grazia e corri verso di noi. Tu che non hai considerato un tesoro geloso il Creatore e Signore che portavi nel grembo sei divenuta messaggera di pace che attendiamo nel tuo Figlio Gesù benedetto il frutto del tuo grembo venuto ad abitare in mezzo a noi in Lui troviamo casa con Lui ritroviamo il senso vieni a dimorare nei nostri cuori, Maria mostrati, Madre, per i nostri giovani perché riassaporino in Gesù la casa della vera amicizia corre in fretta, Maria il nostro cuore ti attende Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fuori e donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Amen Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.